Questo gatto randagio è stato colpito dagli acari, non trasmissibili all'uomo. Il gatto attaccato dagli acari soffre di una forma di otite esterna molto pruriginosa che lo fa impazzire. Si gratta in modo continuativo fino a ferirsi. Se tu fossi in questa situazione, vorresti essere aiutato. Noi ci siamo presi cura di questo gatto libero, ossia randagio, senza padrone che lo curi e lo abbiamo portato dal veterinario che gli ha fatto una iniezione anti-acaro. L'ultima ferita. Anni, hai visto che ne vediamo al tassari. Domenico, la pallina? Qua pallina? Ho poi fatto un malattimo, 2500,ком moments. T dotsci Come ne vediamo, tutta. Cosa fibra? Il pallina? E troppo la vaginta ferma? Qualcunque se ho trovato avuto, la cosa immagine è automaticamente ancora di 911vi durante E ancoraений e te ne consque sonoờ a liquidità pulite. E quindi? Grazie a tutti